Signora Presidente, onorevoli colleghi, arriviamo alla decisione assunta in piena coscienza e in base ai valori che hanno determinato e guidato il mio impegno politico all'idea di servizio alle istituzioni che ne consegue. A sole 72 ore dai fatti c'è la presa d'atto della necessità della mia scelta che sto compiendo e la mia comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica dimettendomi a 72 ore dai fatti e non a 72 giorni.